...la banda non solo spazio ai musicisti, anche ai compositori. Ascoltiamo adesso una marcia moderna scritta da Fabrizio Cecconi, che fa qua... ...è uno dei temani musicisti dell'altezza del piano Giacchino Rossini a mea. La marcia è scritta in memoria del nonno Mauro, di Fabrizio Cecconi, via Mazzini. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.